Ben trovati amici di Telepace e come al solito spazio ora alla nostra intervista. Quest'oggi affrontiamo un tema importante che è quello della disabilità, lo affrontiamo da varie sfaccettature attraverso l'esperienza di Alessandro Chiarini. Grazie per essere qui. Grazie a voi. È presidente di una realtà, il CONFAD, che leggo bene è il coordinamento nazionale famiglie con disabilità. La loro lotta è una lotta che ci vede tutti coinvolti, perché secondo me deve essere una lotta di insieme. Ma vi faccio capire meglio questa affermazione facendo raccontare ad Alessandro Chiarini proprio la sua storia. Come nasce questa attenzione al mondo della disabilità in lei? Tutto origina chiaramente da un'esperienza personale, perché io sono papà di un giovane adulto di 26 anni che è disabile grave dalla nascita e quindi chiaramente sulla scorta di un'esperienza familiare estremamente impegnativa. È davvero molto difficile anche da raccontare poi, perché chiaramente a distanza di così tanto tempo tante cose sono successe, tante esperienze abbiamo vissuto, io, mia moglie, mia figlia e mio figlio. Però ecco, da questa comunque nel tempo è nato in me sicuramente l'idea, il desiderio di occuparmi della tematica in uno sfondo un po' più ampio e quindi per questo motivo il mio destino ha incrociato questa associazione, il coordinamento nazionale famiglie con disabilità, nella quale io sono impegnato attivamente da oltre dieci anni, occupandomi di varie cose e sono presidente da circa cinque anni, che è un'associazione di promozione sociale, una PS. È un'associazione che è stata fondata nel 2007 da genitori, quindi di bambini, di bambine con disabilità che poi chiaramente nel tempo sono diventati adulti e che hanno sicuramente sentito l'esigenza di rivendicare fondamentalmente un punto fondamentale che è la famiglia con disabilità. Infatti nell'acronimo c'è questo concetto che è espresso in modo molto chiaro, perché laddove si parla della persona con disabilità, che ha sicuramente il suo profilo, i suoi diritti, c'è tutto un mondo chiaramente che deve essere messo in sincronia in modo tale che questa persona possa davvero essere inclusa nella società, ma parimenti c'è la famiglia con disabilità, quindi c'è un contesto familiare, c'è sempre un contesto familiare intorno a questa persona e lo Stato, la società si deve occupare di questa cosa proprio come un tema di diritti che devono essere promossi, che devono essere riconosciuti e di famiglie che devono essere incluse nella società, perché è evidente che quando la disabilità, io dico sempre, non bussa alla porta di casa, ma travolge la porta di casa, entra e sconvolge gli orizzonti, gli equilibri, gli obiettivi, tutto ciò che era un'idea di come condurre una famiglia viene completamente stravolta dall'avvento della disabilità, quindi di un familiare che per un fatto accidentale o per mille motivi diventa chiaramente persona con disabilità, ma questo chiaramente impegna tutti i familiari al suo fianco, a partire da quella figura fondamentale in tantissimi casi che è il caregiver familiare, cioè il familiare che innanzitutto spesso deve anche rinunciare anche a una vita sociale, deve rinunciare anche a una vita professionale, non potendo conciliare lavoro, adesso poi non voglio andare oltre perché altrimenti finisce che io parlo per mezz'ora e tutto si concatena. C'è una cosa da cui voglio partire, qual è la situazione in Italia? Che cosa c'è per quanto riguarda la disabilità, ma meglio la famiglia disabile, che cosa è attivato, che cosa si può, io che ho un bambino piccolo, magari mi trovo come è successo a voi, ad avere un figlio con una disabilità grave, vado a chiedere che servizi, che tutele, che aiuti ci sono, che cosa c'è? Certo, beh è una domanda abbastanza complessa perché chiaramente poi la risposta innanzitutto potrebbe variare da regione a regione, perché purtroppo noi sappiamo che dalla riforma del titolo quinto nel 2000, da quando voglio dire l'Italia scelse di regionalizzare il sistema sociosanitario, questo chiaramente ha creato di fatto 20 sistemi diversi e quindi regioni che sono più vicine a queste famiglie, regioni che sono invece più inadempienti, quindi c'è una situazione estremamente variegata, estremamente complessa da raccontare. Diciamo più in generale, se osserviamo le cose, voglio dire con un minimo di prospettiva storica, senza voglio dire farla troppo lunga, però sappiamo che dalle battaglie di vecchie, di storiche associazioni di famiglie degli anni 70, 60, 70, la disabilità ha cominciato ad essere conosciuta, perché non nascondiamoci il fatto che 50 anni fa, 60 anni fa una famiglia viveva magari questa condizione innanzitutto con un senso assolutamente ingiustificato di colpa, ma che però spesso si manifestava e quindi da qui un senso quasi di inadeguatezza, di vergogna, di difficoltà. Fortunatamente tanti passi sono stati fatti tanti passi avanti, sia dal punto di vista legislativo e anche dal punto di vista sociale, tutto sommato, noi sicuramente sosteniamo che tanti altri debbano essere fatti, perché se è vero che ci sono state delle leggi che sono state introdotte, parlo ad esempio della legge 104 degli anni 90, ha cominciato a prevedere il concetto di disabilità grave e quindi il segno di accompagnamento, quindi una serie di provvidenze economiche a sostegno della persona con disabilità e quindi qualche cosa si è cominciato a muovere, allo stesso tempo le regioni nel loro sistema sociosanitario hanno cominciato a prevedere attraverso l'utilizzo del fondo della non autosufficienza una serie di strumenti e di misure di sostegno per queste famiglie, però come le dicevo prima, innanzitutto la situazione è estremamente variegata e frastragliata, spesso questi diritti sono di volta in volta messi in discussione perché viene detto che non ci sono sufficienti fondi e quindi magari le leggi ci sono ma non vengono applicate e terzo e fondamentale punto, ancora invece sul tema del caregiver familiare ancora non è stata fatta nemmeno una legge, ovvero è stata fatta una legge che ne dà la definizione in questi termini del familiare che accudisce una persona con disabilità grave e quindi decide di fare una scelta di grande responsabilità, di amore, ma una scelta chiaramente necessitata dalle condizioni, per cui questa persona non è un volontario e non è sottolineata questa affermazione perché in realtà è un'affermazione molto importante perché con tutto rispetto per il mondo del volontariato, a quale veramente dobbiamo dare grande riconoscimento, ma il volontariato è un mondo completamente diverso, cioè quindi non stiamo parlando di cose completamente diverse, cioè il volontario è un'attività che può essere svolta se uno se la sente, se non se la sente smette, sospende eccetera, ma qua stiamo parlando di un'altra cosa, qua stiamo parlando di un'attività che comincia il primo di gennaio e finisce il 31 dicembre dell'anno. E 24 ore su 24. Esatto, e questo chiaramente è un malinteso che deve essere sgomberato dal tavolo in modo tale che poi le misure ne tengono conto, perché se noi cominciamo a dire che è un'azione volontaria, allora se è volontaria, allora non diamo soldi perché l'ha scelto volontariamente, quindi tanto per fare un esempio. La vostra campagna, la vostra lotta in questo momento è nel riconoscimento, intanto il termine di questo termine inglese che usiamo tutti, caregiver, che poi è arrivato nel nostro vocabolario veramente tardi, ma è una persona che ha gli stessi diritti di un lavoratore, in questo senso qual è, ecco la vostra... È una persona che come dicevo io in tanti casi deve rinunciare al lavoro, deve rinunciare proprio perché l'impegno di accudimento è tale per cui è impossibile la conciliazione tra le due cose, ed è impossibile proprio perché magari il comune o la regione non riesce a dare una qualità di servizi tale per cui sia possibile una vita inclusiva per il carriere familiare, quindi voglio dire le ore di assistenza magari spesso sono estremamente discontinue, limitate e quindi sicuramente non coprono voglio dire quella che può essere una possibilità di conciliazione, quindi bisogna tenere conto di questo, bisogna tenere conto di questo perché poi noi in realtà sappiamo che le famiglie sono davvero la colonna portante del cosiddetto welfare informale, cioè se oggi non ci fossero le famiglie, per lo Stato i costi probabilmente si moltiplicherebbero per 10, per 20 volte, perché se lo Stato dovesse far fronte a un'attività di accudimento, di sostegno di persone che hanno bisogno di essere lavate, cambiate, alimentate, aiutate in tutto, se non ci fosse questo supporto delle famiglie, il welfare in Italia crollerebbe oggi per domani, immediatamente, quindi allora lo Stato non può ignorare queste cose, purtroppo lo ignora, e questa è la cosa che davvero risulta totalmente intollerabile, è intollerabile perché non è mai stata fin qui posta la dovuta attenzione a queste figure e a queste persone. Voi che cos'è che chiedete? Ma fondamentalmente noi chiediamo il completamento di un iter legislativo che preveda per il caregiver familiare tutta una serie di strumenti in funzione chiaramente del fatto specifico, perché se è vero come è vero che esistono tante tipologie e tante condizioni di disabilità, dalla più impegnativa alla più complessa alla meno complessa e alla meno impegnativa, è altrettanto vero che anche per quanto riguarda i caregiver familiari occorre scendere nel dettaglio, valutare le situazioni, perché è una famiglia in cui c'è una mamma e un figlio e basta, è una cosa, è una famiglia in cui ci sono cinque persone, tre fratelli e un'altra e quindi non si tratta di dare un trattamento uguale per tutti, ma graduato proprio in funzione delle necessità, delle esigenze, dei contesti familiari. Questa persona va valorizzata, va valorizzata proprio attraverso un sostegno economico, perché ripeto, nei casi in cui una persona non può lavorare di fatto per lo Stato diventa un disoccupato, senza alcun riconoscimento di contributi pensionistici, senza alcun stipendio, quindi lo Stato lì deve intervenire, deve dare un supporto che è giusto, che è sacrosanto, quindi non stiamo parlando di chissà che cosa, stiamo parlando del riconoscimento di un diritto che è sacrosanto, anche perché questo chiaramente permette di realizzare questa legge, permetterebbe di realizzare l'inclusione, voglio dire, perché poi mai come in questi anni, voglio dire, si usa e si abusa della parola inclusione, ma poi nei fatti non si pratica, e questa è una cosa che da cittadino mi dà molto fastidio, perché tutti si riempiono spesso e volentieri la bocca di inclusione, quando in realtà non sanno neanche che cosa è, che cosa vuol dire, questo è un caso lampante, voglio dire, la società italiana non si può definire inclusiva, fintanto che non si tappa questa falla di una legge sui carrieri famigliati. Dicevo, per rispondere alla sua domanda, perché non ho concluso poi divagando in mille digressioni. Allora, sostegno economico, riconoscimento di contributi figurativi e accesso quindi a delle forme anche di pensionamento anticipato, perché chiaramente si considera che chi poi riesce in qualche modo, facendo i salti mortali, a mantenere un lavoro, magari part time, e a fare quindi questa attività di carriera familiare, magari, anzi, togliamo il magari, è sottoposto a un'attività di stress che di fatto, ed è stato dimostrato anche da un premio Nobel del 2009, ne riduce l'aspettativa di vita. Quindi delle forme di prepensionamento di queste categorie, secondo noi, sono fondamentali. E poi chiaramente una possibilità di vita inclusiva attraverso la previsione e fare in modo che venga assicurata un'attività di sollievo. Che cosa vuol dire? Cosa succede in questa famiglia se il carriere familiare si ammala? Cosa succede in questa famiglia se un giorno alla settimana il carriere familiare volesse fare una passeggiata da solo? Semplicemente godersi uno scampolo di vita inclusiva, non stiamo parlando di cose, cioè qua abbiamo previsto e prevediamo giustamente misure ferie, malattia e quant'altro per qualsiasi tipo di figura professionale e ci mancherebbe. Pensiamo ad esempio alle badanti, voglio dire, le colfe, per loro è previsto tutta questa serie di cose e ci mancherebbe altro. Per il carriere nulla. Tra l'altro la cosa che mi ha molto colpito è che voi questa cosa la richiedete da tanto tempo. Avete fatto anche petizioni all'Unione Europea, che non sono state ascoltate, all'ONU. Certo, certo. E questo denota che il nostro paese è indietro sette secoli, su questo fronte. Questo denota che lo Stato italiano purtroppo trascura questo tema. Direi che il termine più appropriato è la trascuratezza. Cioè il ritenere che questo comunque sia un tema secondario e marginale. Perché se noi osserviamo qual è lo sviluppo dell'agenda politica ci rendiamo conto che le priorità sono sempre altre. Sono sempre altre e quindi va a finire che di disabilità e di crisi familiari si parla a caso mai se c'è bisogno, se c'è il tempo, se capita. Però sempre in modo estremamente marginale. Mentre invece non si mette a fuoco quello che è realmente una tematica che riguarda milioni di persone, che poi chiaramente come ripagano la politica? Con un grande senso di sfiducia. Perché in queste famiglie chiaramente cresce un profondo senso di sfiducia. Perché è evidente che non c'è, al di là di tante dichiarazioni, mancano ancora tanti strumenti. Vede, io in questi anni ho avuto modo di parlare con politici di ogni colore politico. Immagino. E mai nessuno mi ha detto che queste cose non erano importanti. Mai nessuno mi ha detto che non era d'accordo con me. Quindi ho sempre trovato grande disponibilità nelle parole. Poi se dovessi raccontarle di chi realmente ha fatto qualche cosa, viva Dio, qualcuno c'è, male di conto sull'edito di una mano insomma. E che forse neanche riesco a fare tutta una mano. È un po' triste. Qual è il limite che vi danno sempre? Qual è il problema che questo governo trova nell'attuare questa vostra richiesta? Allora, come si è capito, chiaramente qua non è che stiamo parlando proprio di un governo in modo specifico, ma l'orizzonte temporale è più ampio e quindi riguarda chiaramente governi di vario colore politico che si sono succeduti nel corso degli anni. Generalmente si parla dei fondi, generalmente si parla della difficoltà di individuare la platea, perché chiaramente si tratta anche di fare un esercizio di approfondimento per sapere quanti sono i carichi familiari e all'interno di questi quali hanno bisogno di certe misure e quali hanno bisogno di altre misure. Ma voglio dire, lo Stato ha tutte queste informazioni. L'Istat ce le ha, l'Inps ce le ha, i distretti sanitari ce le hanno, quindi voglio dire si tratta di mettere in rete e di fare un minimo di sforzo per cercare di organizzare queste informazioni e avere dei dati certi. Da questo chiaramente discende la possibilità poi di individuare la platea e quindi i fondi da mettere a disposizione e di conseguenza arrivare a una legge che sia appropriata. Mi fa un po' sorridere mentre racconto questa cosa, ma perché sorridono? Sto sorridendo perché mi viene in mente la famosa storia del super bonus, che non c'entra niente di argomento questa sera, però un caso lampante in cui il governo comunque dei tempi aveva questa volontà politica chiara di fare questa cosa, l'ha fatta e solo a posteriore si sta scoprendo quanto costa per l'erario. A noi negli anni hanno sempre detto che no, il MEF vuole sapere prima di dire, prima di dare autorizzazione, quindi a noi sempre abbiamo sempre avuto l'impressione di questi grandi dirigenti del MEF piuttosto che di altri ministeri molto attenti e scrupolosi e quindi prima di muovere e dare autorizzazione li volevano sapere, capire e poi nel contempo ci siamo visti in questi anni scivolare davanti questa storia davvero incommentabile del super bonus, non sto dicendo se sono a favore o contro, sto dicendo del principio per cui si è fatta una legge e si è scoperto dopo quanto costava per lo Stato. E lì si pensava di trovare la soluzione e di far ripartire il paese che sembrava... E questo è un altro tema ancora, esatto, ma io mi limito solo al discorso del dire hanno fatto una legge e hanno scoperto dopo quanto costava. A noi hanno sempre detto che prima bisogna sapere esattamente quanti sono le persone per sapere quanto costa e quindi questa è stata una delle ragioni che hanno sempre reso molto difficoltoso questo percorso per il quale fin qui a livello nazionale siamo arrivati a questa legge che di fatto dalla definizione ha cominciato a mettere una posta di bilancio, i 30 milioni annui che sono stati via via negli anni rinnovati ed si è fermato tutto lì. Nel senso che poi non avendo stabilito una legge nazionale per cosa dovevano essere spesi questi soldi, il ministro della famiglia di allora decretò un riparto su base regionale e quindi poi i soldi vengono date alle regioni, 20 regioni, 20 modi diversi di essere spesi e diventa davvero difficile poi andare a capire come sono stati spesi effettivamente. La cosa che lascia con ramare in bocca a me che non sono diretta interessata immagino la realtà, le famiglie che vivono tutti i giorni questa cosa è che del tema disabilità molti come lei diceva parlano però poi in realtà a parte qualche servizio dove si racconta che non c'è l'insegnante di sostegno per il bambino e che quindi ha una disabilità non grave, a parte i posti dove si possono portare i ragazzi disabili, a parte queste cose che fanno parte del mio mondo del lavoro che fa Telepace perché molto spesso parla di questo, poco altro si trova sulle nostre televisioni, nei nostri mezzi di informazione, sui nostri giornali, però mi sembra che sia proprio una visione miope perché non è una società, non è una parte della società da lasciare andare. No, sarebbe una parte da includere innanzitutto, il tema anche questo è abbastanza complesso ma lo possiamo sintetizzare secondo me in elementi molto chiari, lei ha toccato un altro, ha messo il dito su un'altra piaga, cioè di come il mondo dei media affronta il tema della disabilità, generalmente non si parla di disabilità, se lei mi riesce a dire una volta che alle 8 di sera sui mass media, sui tg ha trovato, credo che era vero. E se sono, sono solo per andare a dire. Ci stavo arrivando, allora i casi sono l'omicidio, suicidio, quindi i casi di corona caniera, di famiglie che ovviamente sono arrivate a un punto di disperazione, i servizi inefficienti, ma la storia singola del bambino tizio che nella scuola X non ha, e quindi il caso umano, il caso, il pietismo quindi, cioè quindi questi sono gli stili attraverso i quali la comunicazione ci ha avuto di queste cose. Dall'altra parte poi negli ultimi anni è emerso un modo di comunicare su altri versanti della disabilità che vengono un po' definiti con il concetto di abilismo, cioè quello di per carità con grande affetto e grande riconoscimento, la bevevio della situazione piuttosto che di atleti che ce l'hanno fatta, quasi che si voglia veicolare un messaggio positivo che va bene, ma non si osserva la realtà per quella che è, che non è né pietistica né sensazionalistica, ma la realtà di milioni di persone che rappresentano una parte importante della società, che dovrebbero essere di più valorizzati proprio per ciò che essi rappresentano, perché vede, queste famiglie sono famiglie che offrono davvero un esempio di abnegazione, di sacrificio, di amore, cioè sono famiglie che in una società così alla deriva, allo sbando, potrebbero essere raccontate ma non per mettere in piazza i loro fatti, ma per dare conto e spiegare a chi non vive la disabilità che quando poi nella vita sei messo di fronte a delle sfide così impegnative, riesci a tirare fuori anche il meglio di te, nel bene e nel male, nei momenti più difficili e nei momenti più belli, perché questo davvero ti permette di aprire le porte a un approccio più stereofonico proprio delle emozioni, nel bene e nel male, ma quello che è centrale è proprio l'esempio di grande unità che offrono queste famiglie, di grande amore, di grande, quindi di valori davvero importanti, che meriterebbero di essere di più valorizzati perché sono degli esempi positivi, nella sofferenza, nella difficoltà, nella complessità, nella lotta quotidiana, queste famiglie davvero possono offrire un grande contributo, sono davvero esempi edificanti, però in media, non parlo chiaramente di voi, sto parlando di un discorso estremamente ampio, in media fanno fatica a capire questa cosa perché poi ovviamente conta di più mettere la Ferragni in prima pagina per una settimana perché tutti adesso vogliono capire la Ferragni cosa fa, se si è svegliata, se non si è svegliata, se ha preso il caffè, se è andata a bar, cioè quindi... Sono stra di là di d'accordo, veramente d'accordo. Purtroppo è così, quindi viviamo appesi a queste emergenze inventate, a questi eventi del tutto evanescenti, ma non si parla poi delle cose in concreto, delle cose importanti. Del cose di tutti i giorni, delle cose vede. E purtroppo la disabilità, come si diceva all'inizio di questa domanda, viene relegata al sensazionalismo, al pietismo, a un modo di raccontare che poi generalmente non aiuta la gente a capire, perché chi non vive la disabilità ha difficilmente un'opinione chiara, e spesso vive nella totale ignoranza, e quindi nell'ignoranza se tu non conosci una cosa ne hai paura, e se ne hai paura la lontani, tutti si interessavano del Covid perché tutti avevano paura di prenderlo e quindi c'era comunque l'attenzione a questo tema, la disabilità, se non ce l'ho in famiglia, ce l'ha il mio vicino di casa, è un problema suo, una questione sua, e quindi no, anzi mi dà anche un po' fastidio parlarne e vedere, e quindi rimaniamo qua, rimaniamo qua, ma questa società non fa passi avanti. C'è un modello in Europa che potrebbe diventare per il nostro paese un modello da seguire? Faccio questa domanda perché? Perché molto spesso anche nelle mie chiacchiere quotidiane, familiari, così diciamo sempre, ma guarda là funziona, perché non possiamo importare quel modello anche da noi? È una bella domanda, la prima cosa che mi viene da dirla è perché qua ci siamo noi italiani, insomma, che sappiamo forse queste cose, così gliela dico distinto. Perché l'esperienza nasce dal fatto che quando, e probabilmente quelli che seguono Telepace, che seguono questa nostra chiacchierata molto informale, tra l'altro, lo sanno, a me è capitato di andare a Lourdes e a Lourdes, a parte trovare il mondo della sofferenza, quindi non solo della disabilità, il mondo della sofferenza, trovi anche dei gruppi di giovani inglesi che portano questi bimbi disabili e che le loro celebrazioni, il loro vederli, hanno un approccio, adesso io non lo so se sto dicendo una scemenza, io dico solo quello che ho visto, hanno un approccio sicuramente molto gioioso, non c'è pietismo, ecco, almeno in quell'occasione lì. Allora la domanda è questa, che nasce da un'osservazione mia, se oltre Alpe in Europa c'è un modello che potrebbe essere utile per noi, che ci potrebbe dare un esempio, che potremmo seguire? Allora questa domanda può essere affrontata attraverso due temi, due profili, profilo politico e profilo sociale, dal punto di vista politico sicuramente se parliamo dei servizi alla disabilità, purtroppo l'Italia è spesso un fanalino di coda, ad esempio non c'è una legge sui carrivi familiari, cosa che invece è stata normata in tutti i paesi dell'Unione Europea, e quindi già parlando di carrivi familiari, voglio dire, mi citi un paese, credo un altro, qualsiasi, scelga lei il nome, ma alla fine laddove c'è una legislazione che dia dei sostegni e laddove nel nostro caso non c'è, è chiaro che c'è un gap evidente. E quindi più in generale dal punto di vista sociale, io credo che la cosa che mi lascia sempre abbastanza interdetto è considerare una nazione che ha una storia, una cultura cristiana come la società italiana, e quindi parliamo non di politica ma di società, nonostante questo, nonostante le tante cose, ancora la gente fa fatica a comprendere queste cose, fa fatica a osservare con un occhio che non deve essere né pietistico né di altro genere, ma semplicemente avvicinarsi a queste cose innanzitutto con l'umiltà di sapere che tu non le conosci, se non le conosci cerca di non giudicarle, cerca di capire, cerca di capire che c'è dietro queste famiglie, perché hanno fatto queste cose, tu non le avresti fatte, ma non ha importanza, ma cerca di capire, non giudicare. E quindi questo è un sommovimento più della società che non della politica, c'è qualcosa che si potrebbe incentivare di più attraverso la società. Insomma, ecco, guardi, io le posso citare l'esempio di una bellissima iniziativa a cui ho partecipato, un convegno organizzato dalla Diocesi di Milano relativamente alla pastorale della disabilità, dove con i sacerdoti responsabili della pastorale della disabilità ci si è posto il tema di organizzare una giornata che non fosse per le famiglie con disabilità, perché poi se no si finisce a fare un circuito chiuso, ma a porre al centro il tema della famiglia con le sue fragilità e in quella giornata si è riusciti sicuramente a veicolare un momento di dialogo tra famiglie, indipendentemente dal fatto che avessero una persona con disabilità o meno. Queste cose vanno incentivate, cioè vanno incentivate di più un'apertura, una possibilità di incontro e di confronto per fare in modo che davvero si realizzi l'inclusività, perché altrimenti ci nascondiamo dietro alle quattro mure del nostro appartamento e non vediamo che cosa succede nella casa del vicino, voglio dire, che sta a dieci metri più in là. Quindi questo però, ripeto, è un movimento, cioè è una questione che riguarda la società e quindi è un tema più ampio e più complesso. Allora, il tempo è veramente scaduto, noi abbiamo una mezz'ora a disposizione e l'abbiamo riempito tutto, avrei cento altre domande da fare, per cui non è detto che non torniamo su questo argomento e che non la rinvito di nuovo. È stata una chiacchierata dolce e amara, direi, perché da un lato, lei ci ha raccontato, però dall'altro lato viene la voglia di fare di più e di smuovere le coscienze, perché davvero se non partiamo da quello che lei ci ha detto ed essendo telepace una realtà che viene vista in ambiti anche ecclesiali, allora rilanciamo la proposta perché sì, se si riescono ad innescare delle buone pratiche, forse anche poi il mondo della politica un po' assurdo riesce a capire, perché mi sembra che qui la prima cosa è conoscere e capire. Grazie Alessandro, davvero. La ringrazio molto perché secondo me ci ha dato cento motivi per riflettere su questo tema e non è detto che ci rivediamo un'altra volta. Non è una minaccia. No, non è certamente una minaccia. Io spero che chi ci ha ascoltato abbia tratto sicuramente degli elementi di conoscenza, di riflessione propria e personale, insomma. Ecco, su come chi è a casa in questo momento ci sta guardando, che rapporto vive con la disabilità, se in casa non ce l'ha, ma se ce l'ha al vicino di casa o al parente, cioè quindi come vede questa cosa. Cioè quindi cercare di superare delle barriere culturali prima che le famose barriere architettoniche. Ed è una cosa fondamentale e questo aiuterebbe sicuramente a migliorare la qualità dell'inclusione e quindi della società. Grazie. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Cercate di rispondere alle domande del signor Chiarini. Cercate di rispondere alle domande del signor Chiarini.